La consapevolezza di avere una squadra di valore, la serenità di chi è partito con il piede giusto nella nuova esperienza agonistica, la voglia di continuare a stupire. Il Barletta, avversario dell'Unione Calcio Bisceglie domenica prossima sul netto di Terlizzi, è avvisato. È una partita importante e quindi c'è un po' più di aspettativa. Rispettiamo il Barletta perché è un gruppo, è un'organizzazione costruita per centrare l'obiettivo del passaggio di categoria. Quindi, a prescindere poi che i primi risultati, ma siamo ancora all'inizio, non può far testo. Sinceramente sappiamo che gli avversari, come è giusto che sia, vengano per fare il bottino pieno. Passaggio del turno in Coppa Italia di Lettanti, dove giovedì prossimo affronterà in casa il Bitonto nell'andata dei quarti di finale. Sei punti ottenuti in tre partite di campionato. L'approccio alla nuova stagione dell'Unione Calcio, dunque, è stato decisamente incoraggiante. Abbiamo un gruppo nuovo che abbiamo costruito dall'inizio, tutto nuovo, quindi è ovvio che all'inizio ti servono i risultati per creare i presupposti d'entusiasmo e per aspettare che si creino anche un pochettino gli automatismi. Io penso che questi risultati iniziali, queste vittorie, hanno servito a fare questo, a creare questo gruppo importante, un gruppo che privilegia il collettivo, che mette in secondo ordine un discorso personale, quindi abbiamo il vantaggio di poter partire col piede giusto. E ora è il momento delle conferme. La sfida con il Barletta, inutile nasconderlo, sarà l'occasione buona per testare ulteriormente la propria reale consistenza, sia tecnica che mentale. È una partita dove sicuramente ci teniamo a far bella figura, perché sappiamo benissimo degli avversari, sappiamo che vogliamo ritagliarci un po' di spazio, sia a livello di simpatia, ma soprattutto a livello di opinione pubblica, e quindi abbiamo questa possibilità di poterci confrontare con il Barletta, che ripeto, squadra importantissima. Ambizioni sì, proclami no. La salvezza prima di tutto, ma la compagine dei fratelli Pedone ha dimostrato di avere le carte in regola per occupare un posto fisso nella parte sinistra della classifica, e perché no, inseristi nei giochi playoff. Parlare di obiettivi è difficilissimo. Ormai il gruppo si è consolidato, il gruppo vuole in tutti i modi far sì che in giro si conosca che stiamo lì a lavorare, a portare prestazioni, e se vengono risultati è un vantaggio in più. Zinfollino avrà solo problemi di abbondanza per la partita con il Barletta. Unico assente, l'attaccante di Pierro, bloccato in infermeria.